Ascoltiamo un momento al termine della conferenza stampa, in diretta. Quando l'Associazione Bancaria Italiana dice non ne sappiamo niente, quando il mondo delle imprese dice fermi tutti, spiegateci, o il governatore di Banca d'Italia è diventato un pericoloso sovranista, razzista, estremista, oppure è giusto che il Parlamento... Noi chiediamo semplicemente che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento e il Parlamento voti. Se il Parlamento vota a favore, in democrazia funziona così, ne prendiamo atto. Siccome nel programma dei 5 Stelle c'è il no assoluto e totale, o i 5 Stelle hanno cambiato idea, oppure questo trattato non sa da fare. Allora, un argomento in più che tra poco, dopo la pubblicità, ci darà Giancarlo Cancello.